PaviaPlay.it, accende il tuo territorio. Cari amici di PaviaPlay, bentornati al nuovo appuntamento di Massaggio al Benessere. Oggi ci troviamo in una location speciale, come potete vedere. Oggi, in particolare, i nostri cari amici Davide e Irene ci porteranno attraverso il loro viaggio, appunto, la loro esperienza come massaggiatori. Vi lascio e vi auguro una buona visione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.